le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di martedì 15 dicembre ariete oggi sarete un po troppo possessivi nel rapporto con il partner la luna in capricorno vi mette addosso un pizzico di gelosia di troppo toro apprestatevi a vivere una giornata importantissima questa luna riesce ad alimentare la vostra autostima avete una grande consapevolezza dei vostri mezzi gemelli ora potete mettere meglio a fuoco i vostri progetti è il momento giusto per svolgere indagini sondare il terreno per verificare la validità di certi progetti cancro la luna opposta rende la giornata difficile da affrontare piena di ostacoli faticosa anche a causa della vostra non perfetta condizione fisica leone la luna vi invita a mettere ordine nella vostra vita cercate di focalizzare i punti che necessitano di maggiore attenzione come l'amore ad esempio vergine avrete una grande vitalità sentirete il bisogno di guardare al futuro di mettere in cantiere nuovi progetti è un momento positivo per iniziare qualcosa di nuovo bilancia è una giornata stressante quella odierna causa della luna in capricorno che vi affatica molto e provoca anche qualche piccolo problema domestico scorpione una bella luna vi regala entusiasmo ed energia sarete abili a sfruttare tutte le occasioni sul lavoro e con il partner potrete vivere una serata allegra e pensierata sagittario mercurio nel vostro segno rappresenta sempre una ventata di idee di freschezza di novità oggi però sarete alle prese con vecchi problemi di lavoro e non avrete tempo per voi capricorno una bella luna nel vostro segno modo speciale per prepararsi alle prossime feste che vi vedranno grandi protagonisti le prossime saranno giornate impegnative acquario affronterete parecchie difficoltà quest'oggi dovute anche al fatto che non riuscirete a staccarvi da certi ambienti professionali e familiari e spesso accuserete il peso della routine pesci una luna che vi mette in comunicazione con persone interessanti è bellissima per chi svolge un'attività intellettuale per chi deve sostenere un colloquio di lavoro e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus grazie a tutti